Abusava di una bambina di soli 7 anni, ragion per cui la squadra mobile di Reggio Calabria, a seguito di indagini approfondite coordinate dalla locale procura della Repubblica, nella giornata di ieri ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di un uomo di 62 anni. Le indagini coordinate dal procuratore Vicario Gerardo Dominiani e dal sostituto procuratore Marica Mastrapasqua hanno permesso di monitorare le abitudini dell'uomo, anche al fine di scongiurare il pericolo di eventuali ulteriori condotte lesive dell'intangibilità sessuale di minori. Fondamentale ai fini della ricostruzione della grave vicenda delittuosa è stata anche l'audizione protetta della minore. L'uomo, adesso rintracciato presso la sua abitazione dopo la formalità di rito in questura, è stato condotto presso la casa circondariale di Argillà a disposizione della competente autorità giudiziaria. Il mio più sincero ringraziamento alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e agli uomini della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria per avere tratto in arresto un 62enne accusato di aver abusato della nipotina di 7 anni. La nota stonata è che il soggetto pare sia recidivo. Ciò significa che la legislazione è debole. Ciò significa che i pedofili godono di perdonismi di sorta camuffati da attenuanti generiche. Quando invece la pedofilia è un crimine contro l'umanità debole e indifesa che deve essere riconosciuto legislativamente a ogni livello come tale. I dati più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di 150 milioni di bambine, 73 milioni di bambini nel mondo, che hanno subito forme di violenza e sfruttamento sessuale. Tutto questo deve finire perché ci troviamo davanti all'ennesimo episodio di crimine contro l'umanità debole e indifesa e i bambini abusati sono sempre, sempre più piccoli. Grazie alla magistratura, grazie alla Polizia di Stato.